Signore e signori siamo giunti a uno degli ospiti d'eccellenza, una stravaganza di questa Eros Adriatica volume 14 e lei diciamo l'ho fatta mettere un po' di schiena perché potrebbe terrorizzare ma potrebbe anche stupire perché è veramente una novità di questo volume 14, con chi parliamo? Io sono Mistress Marika Bentley A Giocabito, chi è Kiss? Ciao Marika, allora tu sei una novità di quest'anno, sei una mistress, quindi abbiamo un ruolo del tutto nuovo nell'ambiente dell'Ers cioè un ruolo nuovo in questa versione perché tu hai tantissimo tempo che fai questa professione con passione una passione che è diventata una professione diciamo così e di dove sei? Io sono trapiantata a Torino ormai da diversi anni però sono metà lombarda e metà siciliana Quindi sei calientissima, sei terra, mare terra, monti, colline, mare, benissimo quindi tu sarai qua con noi anche tu dal 13 al 16. Cosa farai per noi? Sorpresa! Io direi di non dare troppe anticipazioni ma inviterei tutti quanti a venire a vedere che cos'è il vero BDSM perché tu sei una master in assoluto in questa disciplina che comunque molti conoscono approssimativamente ma che tu in realtà professi con passione e dedizione giusto? Sì, assolutamente Quindi siamo alla ricerca di Slave Quindi vi ordino di venire velocemente perché mi servite quindi avrete l'onore di essermi utili Ragazzi, più che un invito è un comando Marika Bentley dall'Invidia Direi che è tutto Esatto A gioca a vita? Ciao Grazie